Tutto pronto per l'anticipo al fattori tra l'Aquila e Salernitana. Pagliari torna al 4-3-3. Gregucci, tecnico ospite, confermerà il 4-2-3-1. Qualche dubbio soprattutto a centrocampo in attacco per l'allenatore dell'Aquila. Scelte fatte invece per Gregucci con l'ex Pescara Sembroni in difesa al posto dell'infortunato Tuia e la conferma di Mendicino al posto dell'infortunato Ginestra. Ci sarà l'esordio dal primo minuto in mediana di Manolo Pestrin al posto dello squalificato Perpetuini. Queste le probabili formazioni. Testa tra i pali per l'Aquila, Scrugli e Dallamano esterni bassi, Pomante e Zaffagnini difensori centrali, Corapi, Del Pinto e Gallozzi in mediana, Frediani, Libertazzi e De Susa in attacco. L'undici della Salernitana, Gori tra i pali, Scalise, Bianchi, Sembroni e Piven, difesa Pestrin e Montervino mediani, Foggia, Mancini e Gustavo a supporto di Mendicino. All'andata decise questo gol rocambolesco di Marco Frediani per l'1-0 rosso-blu. Dirigerà l'incontro Fiore di Barletta.